che ha scritto poco fa Luca Morisi. Vi spiego perché. Luca Morisi è colui che si è occupato della cosiddetta bestia, la comunicazione social di Matteo Salvini della Lega per tanti anni, per molto tempo, fino a qualche giorno fa, quando ha dichiarato che lasciava l'incarico per problemi personali. Oggi sui giornali trovate il suo coinvolgimento in una storia di stupefacenti. Io ve la leggo adesso questa lettera perché già si era scatenato e si è scatenato di tutto di più perché comunque la bestia di Salvini che ha attivato un meccanismo di odio. Proviamo a rovesciare il paradigma e proviamo questa volta invece a non fare lo stesso errore. Secondo me merita di essere letta perché Luca Morisi scrive così non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo. Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato negli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre, ai miei familiari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso. Ho rassegnato il primo settembre le dimissioni dai miei ruoli all'interno della Lega. È un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro, contando sul sostegno e sull'affetto delle persone che mi sono più vicine. Così ha scritto Luca Morisi e secondo me, nonostante tutto quello che si dice di tutto ciò che è stato creato con la bestia, merita di essere ascoltato e merita rispetto. Perché no? La penso così. Grazie a Rixi e grazie a Nardella. Adesso andiamo in pubblicità e poi voltiamo pagina. Grazie a tutti. Grazie.